È da 46 anni che faccio il nipote, se proprio devo essere... Ma se Grillo la butta sull'insulto personale vuol dire che non ha molti altri argomenti. Lui insulta, io voglio lavorare e occuparmi dei problemi del Paese. Penso di potermi fermare qui. Con un decreto io toglierò lo stipendio ai miei ministri, vedo che lui fatica a non far prendere la diaria intera ai suoi parlamentari che si ribellano contro di lui. Quindi per quanto mi riguarda lavoro, mi occupo dei problemi del Paese, non vado agli insulti, respingo al mittente un'altra volta che lui usa la parola colpo di Stato per ferire le istituzioni del nostro Paese, che sono istituzioni legittime, rappresentano la sovranità popolare. E una parola come quella di colpo di Stato è totalmente inaccettabile.